signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e questa settimana andiamo a parlare di un argomento che effettivamente potrebbe essere un po esoterico ma che in realtà viene usato quasi in tutte le sessioni di gioco o perlomeno dovrebbe esserlo usato per evitare problemi si dice infatti spesso che per evitare problemi bisogna parlare con i giocatori e questo è sicuramente vero però a volte si dimentica che i principali agenti del gioco non sono i giocatori ma sono i loro personaggi e anche i loro personaggi dovrebbero ricevere tutte le informazioni di cui hanno bisogno tramite il dialogo ovviamente da altri personaggi per cui come il master parla ai giocatori i png del master dovrebbero spesso e volentieri parlare con i personaggi per trasmettere informazioni sul mondo di gioco detta così in effetti può sembrare una cosa ovvia però mi è capitato di vedere molto spesso situazioni in cui questo non è stato fatto e che hanno portato a problemi poi nella campagna o nella quest quindi per metterci una pezza questa settimana andiamo a parlare dell'esplicitazione testuale rapido riassunto per chi è arrivato nuovo sul canale e magari spera si arrivi al punto immediatamente no non succederà qualche anno fa parlando dei livelli narrativi della quest abbiamo parlato di meta gioco e para gioco che sono i due livelli sequenziali che vanno al di là del livello di gioco non starò a rispiegare un'ora e mezza di spiegazione qui se non avete visto i video dovete andarli a recuperare ve li lascio linkati qua in alto ovviamente però meta gioco e para gioco non possono esistere se non c'è un gioco alla base su cui questa stratificazione i significati possa appoggiarci quindi deve esistere una sessione di gioco e ovviamente cos'è una sessione di gioco lo sapete siete qui a guardare dei video sul gioco di ruolo quindi questa dovrebbe essere tutte informazioni assodate detta così però sembra proprio che si dia per scontato che al livello più basso cioè al livello della sessione di gioco non avvenga niente di particolarmente complesso interessante o se vogliamo usare termini tecnici non avvenga nulla a livello di testo quando il master descrivendo una scena dite che vedete un castello in lontananza emergere dalla nebbia a livello di paragioco potreste pensare che il master ha scelto di mettere lì il castello perché sa che è un elemento che piace al party o perché piace allo stesso master a livello di metagioco potreste pensare che il castello è un classico troppo del fantasy quindi è una scelta retorica abbastanza scontata e dentro quel castello probabilmente sarà ambientato il prossimo dungeon ma a livello di gioco vero e proprio cioè a livello di testo i personaggi sanno solo che davanti a loro c'è un castello ora è abbastanza scontato che la maggior parte delle informazioni verranno fornite a livello di gioco gli altri livelli potrebbero portare variazioni o diversi accenti di significato ma il grosso delle informazioni su qual è la quest verrà fornita ai personaggi durante la quest stessa per via del distacco però tra il livello basiare testuale e quello successivo è probabile che tutte le informazioni che vengano fornite testualmente ai personaggi vengano analizzate immediatamente dai giocatori a livello para o metà testuale se vi ricordate anni fa nel video della sospensione dell'incredulità avevamo fatto l'esempio di un misterioso individuo che si avvicina al party mentre è seduto in locanda e si offre di vendergli una mappa del tesoro questa è una situazione in cui probabilmente qualunque giocatore accetterebbe immediatamente perché capirebbe si tratta di un gancio narrativo e quindi è quello che il master prevede che i giocatori facciano per mandare avanti la quest ma se vi capitasse nella vita reale che mentre siete seduti al barco i vostri amici arrivasse un estraneo a proporvi un laffare losco probabilmente evitereste assolutamente non vorreste avere niente a che fare con quell'individuo questa di per sé non è una cosa negativa intrinsecamente anzi è proprio uno degli esempi palesi di metagioco positivo uno di quei comportamenti che i giocatori mettono in atto per venire incontro alle esigenze del gioco nel caso del nostro esempio della narrativa di riferimento i personaggi di una quest investigativa saranno sempre pronti a investigare sui misteri che gli si parano davanti i personaggi di una quest horror troveranno perfettamente normale passare il proprio fine settimana in un capanno di tronchi isolato in mezzo alla foresta maledetta e gli avventurieri del mondo fantasy troveranno che guadagnarsi da vivere uccidendo mostri in grotte sotterranee sia una valida alternativa di carriera se questo nella maggior parte dei casi è qualcosa di estremamente utile potrebbe però verificarsi una situazione in cui risulta estremamente deleterio per la quest stessa è possibile infatti che il master voglia inserire all'interno della quest degli elementi strani o comunque inusuali delle situazioni controintuitive proprio per sottolineare ai personaggi e quindi ai loro giocatori che la situazione in cui si trovano abbia qualcosa che non vada al suo interno volendo fare un esempio concreto diciamo che i giocatori sono chiamati dalla classica mega corporazione cyberpunk che li vuole assumere per qualche operazione legalmente dubbia ai danni di una ditta rivale questo è un gancio narrativo abbastanza standard dei troppo del cyberpunk e quindi probabile che i giocatori trovano la situazione del tutto normale dopo tutto loro sono cyberpunk e questo è quello che i cyberpunk fanno il lavoro riflettendoci un attimo però la situazione è effettivamente strana la classica mega corporazione del cyberpunk ha delle sue forze di sicurezza e dei suoi uomini fidati proprio per occuparsi di questo genere di cose chiamare della gente esterna di cui non può essere data per scontata la lealtà e che potrebbe anche solo inadvertitamente entrare in possesso i segreti industriali è un grosso rischio per la sicurezza il master quindi potrebbe proprio voler utilizzare questo gancio per mettere la pulce nell'orecchio ai giocatori ai loro personaggi sul fatto che ci sia qualcosa che non vada la mega corporazione potrebbe avere delle motivazioni ulteriori altrimenti avrebbe semplicemente usato i suoi uomini magari sanno che la missione è virtualmente suicida quindi non vogliono sprecare uomini e mezzi che hanno speso tempo e soldi per addestrare o magari vogliono fare il doppio gioco e vendere ai giocatori mentre stanno facendo la missione quale sia l'inganno che c'è dietro questa situazione non è importante quello che è importante però è che il master faccia diventare i suoi personaggi sospettosi proprio perché la situazione che gli sta venendo proposta non sembra sicura ovviamente questo perché i giocatori dovranno sospettare qualcosa e quindi dovranno avere la possibilità di progettare un loro piano di fuga piano b via alternativa o in casi estremi anche rifiutare di fare la missione o indagare per conto loro prima di intraprenderla come abbiamo detto però è probabile che questo non accada perché per quanto magari i giocatori o qualcuno di essi possa trovare effettivamente la situazione strana è più probabile che lo imputi al fatto che questo sia semplicemente un troppo del genere della quest che stanno facendo o mal che vada a una scarsa perizia una scarsa preparazione da parte del master questo quindi potrebbe portare questo specifico genere indizi da parte del master nella pratica a cadere nel vuoto e rivelarsi sempre fallimentare perché verrà costantemente ignorato dai giocatori ovviamente per evitare di cadere in questo errore c'è un metodo se non staremmo qui a parlarne in un video e probabilmente i più astuti tra di voi avranno già intuito che questo metodo è proprio l'esplicitazione testuale da dan colpo di scena quando si parla di esplicitazione testuale si intende che uno specifico elemento viene sottolineato all'interno del testo di riferimento nel nostro caso durante la sessione di gioco mantenendo il nostro esempio qualcuno tra i png potrebbe a un certo punto dire al party che sia effettivamente strano che sia stato affidato a loro a questo incarico e non a qualcun altro e sottolineare come potrebbe esserci qualcosa dietro tutto questo anche se ovviamente non dirà che cosa altrimenti i giocatori non avrebbero la possibilità di scoprirlo da soli e gli avreste rovinato il divertimento come e quando l'elemento venga esplicitato testualmente dipende ovviamente dalla quest e dalle esigenze della narrazione potrebbe come il nostro esempio essere esplicitato direttamente con un png che dice chiaramente ai giocatori questa cosa è strana ma potrebbe anche essere esplicitato implicitamente attraverso scene o situazioni di gioco in cui i personaggi vengono a trovarsi se voi prevedete di inserire una situazione del genere in quest potreste per esempio fare in modo che i personaggi in una quest precedente si trovino in una situazione simile ma che poi si risolva appunto nella maniera che è ritenuta normale all'interno di quel mondo di gioco con magari qualcuno dei png che sottolinei proprio quanto questo sia normale all'interno del mondo di modo che quando i giocatori in futuro si troveranno nella situazione dubbia avranno da soli gli elementi per capire che no effettivamente questo è strano perché ci siamo già passati e non dovrebbe funzionare così ovviamente i giocatori potrebbero anche non arrivarci però a quel punto tutti gli elementi per un corretto colpo di scena sono stati inseriti e anche se i giocatori non ci stanno pensando quando la situazione effettivamente si dimostrerà essere diversa da quello che sembrava i giocatori probabilmente ricorderanno in quel momento anche se oramai è tardi come sarebbe dovuta andare la cosa e effettivamente avranno la sensazione del colpo di scena cioè il classico ah sì al col senno di poi era ovvio che sarebbe andato a finire così e in linea di massima voi stareste a posto con la coscienza perché gli elementi per farli capire glielo avete dati se poi da lì non hanno capito non sono più problemi vostri questo è uno di quegli aspetti del gioco che sembra auto evidente ma poi quando lo si va a analizzare non lo è ora la soluzione che vi ho fornito io in questi video non è sicuramente l'unica magari ce ne sono altre anzi se voi avete metodi migliori per risolvere anche solo metodi alternativi scriveteli qua sotto nei commenti che possono tornare utili a tutti ma in realtà la questione non è tanto risolvere il problema ma prendere coscienza del fatto che esiste in modo da non rimanerne sorpresi nel momento peggiore cioè quando si è al tavolo che si sta masterando detto questo diciamo che questo video possiamo anche chiuderlo qui fare un video sotto la mezz'ora ogni tanto non è che mi fa male quindi adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti oltre metodi alternativi anche situazioni in cui vi è capitato che il metapensiero di gioco sia andato a cozzare contro il livello testuale del gioco o viceversa come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo per crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il link al gruppo i telegram serve ai discord dove si raduna la community del master cae che avete visto produrre vario materiale in questo mese per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao